E' come se fosse una meravigliosa ricetta dove ci sono elencati tutti gli ingredienti uno per uno per arrivare ad ottenere un piatto sublime. E' un libro fondamentale per i nuovi medici. Lui gli dice fate il mestiere più difficile e più bello del mondo e vi chiedo di sacrificarvi. Nessuno andrà lontano facendo il medico se non avrà un sacrificio personale, se non spingerà le sue ore di lavoro e di dedizione persino oltre quelle che gli sono prescritte e però dice di nuovo sacrificarsi è una gioia. Questo tipo di cammino, ovvero curare e prendersi cura, è un'esperienza che ti cambia la vita. Vedere nel messaggio della medicina, della cura, questi valori nella esperienza di una vita intera è la prova, caro Franco, che tu sei stato un uomo indispensabile, un uomo prezioso, un uomo meraviglioso. Stasera ricordiamo un amico per tanti di noi, che era Gianni Borgna. Gianni era un uomo di straordinaria cultura, un uomo di grande umiltà. Poter abbinare il ricordo di Gianni con la possibilità di celebrare anche il professor Mandelli è per noi davvero un motivo di grandissima soddisfazione. Io voglio ricordare Gianni Borgna come il mio paziente. L'ho curato per tanti anni. Io ricordo che lui si è fidato totalmente di me. Ecco, credo che veramente io ho messo in atto con lui quello che poi è il titolo del mio libro. Cioè non solo curare ma prendersi cura della persona. Uno che è malato di solito diventa egoista. Lui non era egoista. Lui era una persona che dava tutto a tutti, sempre. Questa tua presa di posizione ti ha creato qualche problema, non con quelli di stamina, ma con le famiglie, con la gente disperata che vedeva comunque qualcosa contro il nulla? Non ho mai avuto il coraggio di dire niente contro i genitori. Gli hanno convinti che quella cura faceva bene. Fanno una tenerezza, mi commuovono ogni volta che li vedo, perché non hanno niente davanti. Davanti a nulla, 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 qualunque cosa il genitore spera. Vorrei solo ricordare qualcosa. Cioè il malato che viene, che veniva, ma che viene ancora in ematologia, qualche volta si scorda il nome del medico e dell'infermiere, ma non si scorda il viso, il nome del volontario. Perché il volontario qualche volta con una carezza, con una parola dolce, riesce a far superare al malato il momento di angoscia che lo prende quando arriva in un reparto di ematologia con una diagnosi qualche volta terribile. Il libro finisce con delle testimonianze di molti dei miei medici, dei miei volontari, e queste testimonianze sono forse la parte più nuova del libro. Fanno capire che senza di loro non sarei riuscito a creare quello che ho creato. Tutto il futuro che avrò spero di avere la capacità di vedere qualcuno che mi seguirà al punto che potrà diventare il presidente dell'Aile, il presidente del Gmema. Grazie a tutti.